ciao io sono nicola gencarelli sono educatore di bologna faccio parte del team click for all la nostra invenzione è un kit per la auto costruzione facilitata di strumenti digitali alternativi a tastiera mouse e touchscreen alternativi e quindi accessibili perché tastiera mouse e touchscreen per molte persone con disabilità motoria o cognitiva complessa sono inaccessibili la particolarità di questo kit è che non richiede alcuna competenza informatica o elettronica per essere utilizzato quindi persone insegnanti educatori famiglie persone con disabilità stesse possono costruire e personalizzare il loro proprio ausilio informatico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti